Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, bentornati, c'è il buon Nicola che mi sa che hai raggiunto forse quello con più presenze, l'ospite con più presenze, fra un po' diventi ufficialmente co-host del canale Non è un bel segno, non è un bel segno, vabbè si è stato rimandato, cosa si prova a venire qui dopo l'intervista a un hedge fund vice president? Eh, si sta male, si sta male, le aspettative sono molto alte Oppure riportiamo il discorso Riportiamo, centriamoci un po' meglio Ciao a tutti, finalmente Nicola, c'è chi viene addirittura, vi è mancato Con Nicola oggi vogliamo affrontare un po' di temi molto frizzanti come il fallimento dei broker, il fallimento vogliamo affrontare Ma prima stavamo parlando ancora dell'edge fund, della gestione, io non ho ancora capito che so sti hedge fund, spiegami un po' cos'è un hedge fund Sì, è una categoria un po', cioè molto ampia e che è evoluta anche nel tempo Però il nome hedge era stato cognato proprio perché si cercava di trovare una strategia che avesse un ritorno costante nel tempo Anziché avere la... rispetto alla volatilità delle azioni che magari un anno fanno più 20, l'anno dopo fanno meno 10 Ok E quindi in realtà volevano proprio dei ritorni Quindi un bond e un hedge fund Sì Grazie ragazzi, grazie ragazzi Poi vorrò ringraziarvi No, ok, ok Quindi vale un po' quello che ci ha raccontato nell'intervista l'altro ieri sera Il buon marcaccioli era che il benchmark... cercano di essere decorrelati da qualunque altra cosa Quindi non seguono il mercato, il loro benchmark è zero Sì Sì, ma come cosa però No, questo gli dà due vantaggi Il primo vantaggio è che se tu prendi l'edge fund e lo metti dentro un portafoglio con altri asset Aiuta la diversificazione Oppure se, diciamo, nel caso di un endowment di un'università Che ha bisogno di estrarre dal portafoglio 5% all'anno per fare il funding dell'università Ha bisogno di questi ritorni abbastanza... Prevedibili Eh, prevedibili, ecco Ok, ok, good, good Forse la gente non sa cos'è un endowment fund nell'università È cosa apparentemente americana o anche britannica L'endowment è essenzialmente il fondo di investimento di un'università Fa un po' ridere questa cosa Perché ho visto John Oliver parlare un po' del... sai com'è John Oliver, no? Sì, sì, sì Ha fatto una puntata sulle università Secondo me i costi aumentano Ma il grosso non va a pagare le effettive tuition Ma va negli endowment fund E c'era i manager degli endowment fund dell'università Prendevano molto di più Gadagnavano dei stessi professori Hai qualche opinione riguardo? Un altro spiegaci Al volo cos'è l'endowment fund di un'università? Ma sostanzialmente sono... In passato erano le donazioni che gli ex-alunni facevano all'università E dicevano guarda io ti dono questi soldi per costruire un building più bello Per avere dei... Quale studente non fa una donazione all'università per costruire un building più bello? O ti compri la panchina e ci metti sopra il mio nome Però ad un certo punto gli amministratori diciamo hanno pensato Anziché prendere uno e spenderlo subito Se questi soldi li investo posso generare un flusso di cassa nel futuro Il problema è che poi non lo so se è diventata una gara Perché poi se tu sei l'ex alunno dell'università X Vuoi che quell'università lì diventi più figa Perché poi per te diventa... Businessman, gente che ha fatto i soldi Che fa la donation all'università e finisce nell'endowment fund E poi questa roba gli è scappata un po' di mano Nel senso che appunto adesso Le università tra l'altro Queste università americane hanno anche un trattamento fiscale molto vantaggioso Per cui i fondi sono cresciuti Hanno migliorato le tecniche con cui li gestiscono Swensen che poi è stato uno dei pionieri della portfolio theory Faceva il gestore da Yale Però poi ci sono queste distorsioni Per cui l'università dice Per attrarre talento all'interno del mio endowment Devo pagare di più Comunque devo pagare il talento che mi porto a casa Anche se in teoria per alcuni potrebbe essere Una sorta di mission Cioè se io faccio il money manager E lo faccio per un'università Anche se prendo un milione all'anno Anziché prenderne due Però in teoria sto facendo del bene comune Tra virgolette Quindi nell'università Il ruolo più pagato in America L'asset manager endowment fund Il secondo è il coach di Andy Basket Football americano Football americano E per ultimo ci sta Ci sta i professori Allora va bene Ha detto Nicola con te Volevo parlare un po' di intermediari Scusate Ultima domanda voglio prendere dal CDA Che mi ha fatto Federico Bidone Che chiede Alive con Riccardo Mi ha fatto vedere Alive con Riccardo Marcaccioli Fatto vedere gli edge fund Con una nuova prospettiva Non come il fondo che prova a battere il mercato Ma come un prodotto che prova ad essere scorrelato Quindi a fare performance Che prescindono dal mercato Vedo il senso Per qualcuno che ha enormi capitali Da investire in un prodotto Che magari fa pure cagare Come prestazioni Come rischio rendimenti attesi Sharp, drawdown Che quindi è peggio del mercato Ma essendo scorrelato Acquista senso in ottica di diversificazione Cosa ne pensi? Tu ha a che fare con la risk parity Ad esempio? Che più volte abbiamo parlato Sì anche Perché ad esempio può essere Uno degli ingredienti Perché dici Genera un ritorno Che è scorrelato E quindi può essere Uno dei mattoncini Oppure appunto Può avere senso Anche di per sé Ok Ok Va bene Abbiamo avuto un altro Un altro punto di vista Ah dicevamo Stasera volevo parlare appunto Di fallimento Di eventuali intermediari E visto che ce l'ho comunque in lista Ma l'ha chiesto Giuseppe Savoia poco fa Domanda interessante Sembra ingenua Però vediamo un po' Una borsa può fallire? Mi spiego Investire in due borse diverse La stessa share Cambia qualcosa Se non per la liquidità? Proviamo a trasformare un po' la domanda Perché non è che tu investi in una borsa Nei broker retail Che noi usiamo Spesso tu tradi Un prodotto Un etf Un'azione Whatever Su una specifica stock exchange Nel broker spesso vedi Che questa qui l'hai comprata su Xetra L'hai comprata su Lse L'hai comprata su Nise Il fatto che tu hai comprato una share Su una stock exchange Cambia qualcosa? Oppure Nel tuo Nella tua custody è la stessa cosa? Sì Allora Il punto giusto è quello della liquidità Nel senso che Dipende dall'exchange Se ha molti più partecipanti Quindi c'è molta più liquidità E in teoria In quella situazione Lì lo spread È più Quello è per la compra-vendita Una volta che ho preso una share di Coca-Cola Dove l'ho comprata? Cambia qualcosa? No Perché alla fine Nella Nella catena del processo L'exchange È semplicemente L'attore che fa Il matching Di chi vuole comprare Di chi vuole vendere Poi Si passa al settlement E poi Va al custody Quindi È lì dove viene Messa L'azione E quindi C'è il fatto che tu l'abbia comprata In Germania Più stock exchange Non cambia niente Neanche resta traccia Perché io vedo che il mio broker Quando mi mostra il mio portafoglio Mi fa vedere Mi dà una sorta di exchange Semicolon Colon Ticker Di per interactive brokers Significa qualcosa? Cioè significa Dove l'ho comprata? Oppure Dove Dove l'attredirei? Sì no Nel senso In quel caso lì Penso Quando guardavo il report Di IP E dove ti dice Che l'hai comprata Però se io forzo Quindi se io ricompro Ad esempio Vanguard VT Ma forzo Un esempio sbagliato Ma prendo un'altra Un'altra share Un etf Irlanda Lussemburgo Che magari in euro E' tradato su più Stock exchange Oppure Lo compro in un'altra currency Mettiamo che io prendo Lo stesso etf Però lì è un altro ticker No Non c'entra niente Sì Poi Non so Non riesco a formulare una domanda Spero mi abbia capito lo stesso No Nel senso C'è Il bitcoin Se tu compri Il bitcoin Su Chiaro FTX O da un'altra parte E alla fine poi Sempre un bitcoin E non Non ha traccia Di dove Da dove arriva Chiaro Quindi Penso che non abbia senso Comprare Cioè Shares Dello stesso etf In stock exchange Diverse Per Per diversificazione Questo non ha assolutamente senso No A meno che non Cioè Ha senso andare A cercare dove c'è L'invento Dove c'è lo spread Quindi dove Lo spread è più Più stretto Resta la prima parte La domanda Una stock exchange Un exchange Può fallire? È un business Per cui Cioè Per definizione Può fallire Poi Ci sono anche Sostanzialmente Due filosofie Diverse Tra come Viene visto Il ruolo Dell'exchange Negli Stati Uniti E in Europa Perché negli Stati Uniti Pensano che Il mercato Funzioni meglio Se c'è concorrenza Anche negli exchange In Europa È molto più concentrato Ok Nel senso che Diciamo Ogni Stato Al suo Anche se ormai Fanno parte di gruppi Che quindi Hanno più La proprietà di più Exchange In diverse Nazioni Tipo Euronext È un gruppo Chiar Parigi Amsterdam Forse Milano Non è tutto più Ok Non lo so O Milano e Colonia So che Amsterdam E Parigi Si Il Nasdaq Ha quelli I Nordics Quindi Spezia Norvegia Denmark Sono Nasdaq Ah Non lo sapevo Ok Ok Non lo sapevo Però si Sono società Sono quotate E quindi Ok Può fallire Può fallire Una stock exchange Cosa succede Se fallisce La stock exchange Intanto Può fallire In vari modi Immagino Io quando penso Al fallimento Dell'azienda C'è sempre Il fallimento Business Va out of business E fallisce In maniera Graceful Del tipo Ok Stiamo chiudendo Le operazioni Finiranno Fra un mese D'oggi Grazie per aver giocato Con noi E poi c'è il fallimento Un po' più Improvviso Domani Svegli E non c'è La borsa di Milano Non c'è più La borsa di Milano Un fallimento Graceful È facile da gestire Un fallimento Brutale Domani Va out of business Etc Ci siamo falliti Banca rotta E quindi Non c'è più Etc Cosa comporta Per L'investitore Allora Diciamo che A livello Di sistema Si Tenta Di non Di non far Avvenire Queste Questi eventi No C'è un C'è un Vantaggio Per tutti E poi Soprattutto Perché Il business In sé Dell'exchange Non è un business Complicato Per cui Il discorso È che appunto Può o fallire Perché Nessuno vuole più Partecipare In quell'exchange Non ce n'è un'altra Che offre delle condizioni Migliori E tutti si spostano E quindi Però a quel punto lì Non c'è problema Perché il mercato Si è già Spostato Il problema È che In quel caso lì Può fallire Dall'oggi al domani Se c'è un caso Di frode Chiaro E a quel punto lì Cosa succede Il regolatore Lo Stato Perché Poi c'è sempre Questa Cioè Se domani La borsa di Milano Fallisce Ma che è Proprietà Di una Società francese Cosa succede C'è sempre Un po' di Di chi è la responsabilità Cosa si fa Storicamente La borsa in Italia Ha la responsabilità Dell'Italia E l'Italia In qualche modo Tenta di tenerlo in piedi Perché Più che altro Sarebbe Un casino Se non lo facesse Poi Nell'immediato Perché poi Non è che Facciamo un po' di Fanta Sparisce la borsa Fallisce l'azienda Che gestisce La borsa di Milano Tutte le Tutte le Le quote Che io ho Di aziende Quotate in quella Borsa Sono comunque mie Non c'è modo Di tradarle Non over the counter Immagino Però Immagino Che la società Che ne so Stellantis Che non so manco Se è tradata In borsa italiana Prende e deve andare A cercare Di quotarsi A Parigi Cioè Ci sarà Una fase Lunga Di assestamento Di aziende Che cercano Un altro luogo Dove quotarsi E poi tu Dal tuo broker Ti dirà Ok adesso Puoi rivenderle Oppure Nasce in Italia Al volo Un'altra borsa Competitor Vabbè Questo è business A volte che Stellantis È quotato anche A Parigi Sì ok Cercavo un esempio No no Alfonzino Alfonsino È quello da soltanto Sì no Nel senso Il discorso Della doppia quotazione Secondo me Funziona Spiega Perché dice Ci sono già Delle società Che sono quotate Da due parti diverse E quindi Il fatto di essere Quotato di qua O di là Puoi spostare No ma anche Cioè Se tu eri Quotato solo a Milano Puoi quotarti Da un'altra parte Ogni exchange Ha le sue regole Che magari sono Un pochino diverse O molto diverse Dipende Da Che regole Si sono dati Però Non è impossibile Dire Ok La borsa di Milano Fallisce Ci dobbiamo quotare Tutti a Parigi Un po' Un lavoro Per un'azienda Parto in tangenti Forse inutili Ma mi stimola Quotarsi su una borsa Per un'azienda La prima volta Che vai pubblico È un evento Se poi ti quoti Anche su una seconda borsa Mettiamo per semplicità La stessa currency Ok Milano e Parigi Cosa significa Fisicamente per l'azienda Che deve Cercare un market maker Che fa prezzi di là O deve essere Una frazione di quote Cioè delle share Che vengono fisicamente Spostate da una parte All'altra Oppure semplicemente Che nasce un order book Quindi via Si può comprare Vendere di qua Si può comprare Vendere di là Cioè perché di default Non sono tutte le aziende Guardate su delle borse A sto punto È perché hanno Ognuna ha le sue regole E quindi devi rispettare Le regole della borsa XY Devi pagarli Perché ti costa Comunque E poi devi avere Devi avere Il market maker È un problema tuo Avere un market maker Si formerà da solo Il mercato Tu che ti quoti Devi garantire Non è detto Che si forme da solo Per cui Penso che Se non mi ricordo male Uno dei requisiti Quando ti vuoi quotare Nella bibbia Che porti C'è anche scritto Ho il contratto Con questa banca Con questo broker Che viene a mettere Un book A riempire il book In qualche modo Ok figo Qual è Partiamo per la tangente Qual è il business Di una stock exchange Come fa soldi Una stock exchange Come Airbnb No Cioè nel senso Fondamentalmente È un marketplace Dove Dai la possibilità Feed transaction fees Sì Sono solo Loro Ti danno l'infrastruttura Creano l'infrastruttura Sono responsabili Di mantenere Quest'infrastruttura Che funzioni E vengono pagati Con le fii Con le fii Di transazione Quindi se volessi Creare un competitor Di borsa italiana Dovrei A parte Essere ok Per tutte le regolamentazioni Che ci stanno E poi La cosa su cui potrei far leva Sono sui fii Posso dire Faccio Meno fii Sì Uno dei Tipicamente Uno delle leve È il costo Sì Ok Ok Belle Bella Bella Ok Quindi Stock exchange Effettivamente Sono poco problematiche Primo perché Non so se Abbiamo qualche storia Di stock exchange Che sono fallite Mai qualche Dark pool Però quelle Non sono neanche Neanche Sono menzionabili Sono business Che non falliscono C'è stato un periodo In cui Che ne so Magari un pool Di banche Diceva Guarda Anziché andare Da borsa italiana A pagare Le fii E tutto Ci mettiamo insieme Noi Perché comunque Siamo noi Che portano I flussi E ci facciamo No Neanche Anche Light pool Nel senso che È una borsa Noi Criamo La nostra E ci hanno provato Poi Insomma Sono anche Gli alti e bassi Di qualsiasi Settore No A volte Tanti ci provano E poi C'è la classica fase In cui Si Rimettono insieme Perché È un tizio Che compra Gli altri E ritenta Di Fare volume Insomma Però È successo Ma di solito Non è che Appunto Non è che Fallisci Praticamente Ad un certo punto Non c'è nessuno Che scambia E quindi Provi ad andare Da qualcun altro Che invece Quei flussi Ce li ha E dice Vabbè Guarda Ti vendo Questo un po' Di business Che ho tirato su Magari Mi dai qualcosa Ok Vai a liquidare Insomma Non c'è Da informatico Andare a qualche Race condition Del tipo Se fallisci All'improvviso L'exchange C'è una Trade In fase di settlement Magari salta qualcosa No Una volta fatto Il matchmaking E' molto stateless L'exchange Quindi Fatto il matchmaking Ok risolvete La data di voi In ogni istante Può fallire Non c'è nulla In sospeso Insomma Sì no E poi C'è tra virgolette Il fatto che Avrano I dati depositati In exchange Non accade mai Questa cosa qua Cioè Sì Magari poi Lo vediamo Nelle altre cose Però comunque In teoria Quelle due robe lì Sono separate Cioè la liquidità Che Depositata Sull'exchange Non è la liquidità Dell'exchange Società Ok Però già qui vedo Che quindi Un Madoff Che gestisce Un exchange Potrebbe creare problemi Però immagino Siano cento volte Più regolamentate Queste cose E il discorso Di SBF No Ma lì poi c'è Poi in scaletta Poi alla fine Ma un exchange Crypto Cos'è Un broker Un exchange Fa castro Di fa tutto Lì è E' una situazione Un po' Diversa Perché Nel mondo Crypto Non era diversa E che lui Non Non so Beh però Diciamo che Il mondo Crypto Mischiano Broker exchange Come concetti Quindi Giuseppe Savoia Quindi Una share Essendo fungibile Può essere trasferita Da una borsa All'altra Se quotata In entrambi In teoria La share Non è mai Su una borsa Tu stai effettuando Una trade Su una borsa Poi la tua share Ce l'ha il tuo broker Ok Il castodian Il castodian Il castodian È il tuo broker Ok 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 Quindi il tuo broker Non fa neanche cassa Ok Sono un po' Dovrei fare un disegnino Prima o poi Per se no Te le chiedo ogni volta Ste cose Parliamo del broker Dai che è più interessante Il broker Tutti hanno paura L'exchange È un business Solido Diciamo Che è un po' difficile Che fallisca Abbiamo Zero storia A riguardo Abbiamo poi Sempre Exchange Che sono principalmente Nazionali Per cui L'Italia Non fa fallire La borsa di Milano Parigi Non fallisce Londra Non fallisce Ok E poi se falliscono C'è zero rischi Per l'investitore Quindi diversificare Exchange Su cui comprare Non ha senso Dal punto di vista Del rischio Ha solo senso Dal punto di vista Dei costi Per cui Se il vostro broker Vi fa comprare La stessa etf In più exchange Valutate in base Ai fee In base ai costi In base alla liquidità In base allo spread E queste cose qua Possiamo Darla come conclusione Ok Passiamo al broker Passiamo al broker Al broker I broker falliscono La voglia Il broker può fallire Vorrei fare un passo indietro Semplicemente Per spiegare Il mondo Delle società Regolamentate Che tipicamente Sono banche Assicurazioni Broker Asset manager E secondo me È importante Dire questo Rispetto a una società normale Perché Una società normale Prendi La Ferrari La Ferrari Può avere un conto solo E su quel conto lì Arrivano I soldi Quando Vendo una macchina Prendo I soldi Vanno su quel conto lì Da quel conto lì Pago I miei stipendi Faccio tutto Posso fare tutto Con un conto solo Per le società Regolamentate È importante Che Ci siano Due Silo C'è il silo Del Del business E poi c'è il silo Della società Se io Quando vado Da Interactive broker E deposito I miei soldi Anche se Quei soldi lì Stanno su un conto Di Interactive broker Però il regolatore Dice Attenzione Tu Interactive broker Non puoi usare Quei soldi Per pagare i tuoi stipendi Devono essere Due cose separate L'importante Lo vedi Ad esempio Appunto Nelle assicurazioni Perché tu Se paghi il premio Di un'assicurazione Parte di quel premio lì Serve per Ripagare il servizio Ti si rompe la macchina Ti vengono addosso Porti la macchina Al meccanico E l'assicurazione Che paga il meccanico Con quei soldi Che gli hai dato tu Del premio Se quando tu Paghi il premio L'assicurazione Scappa Las Vegas Poi quei soldi Lì non ci sono più Questo è come Implementato Cioè A livello di Regolamentazione Diciamo C'è un conto Conti speciali Che Su cui la società Non può prelevarli Manco in maniera maligna I soldi Comunque Ha autorizzazione Cioè Interactive broker Se gli dico Comprami una share Di Coca Cola Prende i soldi Dal mio conto Per cui in teoria Ha accesso È soltanto che Per regolamentazione Quelli sono soldi miei Se però ci fosse Bernie Madoff Dietro l'interactive broker Potrebbe far sparire tutto Oppure C'è difficoltà No appunto Se un broker è criminale Ma regolamentato Cosa Non può fare Arriviamo al punto di vista Del criminale Però Diciamo Quello che fa le cose Come andrebbero fatte Ovviamente La società Ha la possibilità Di Operare Su quel conto Però Quando ci sono Vari controlli Sia L'auditing Normale Perché sei una società Che I controlli Che ti fa Il regolatore Devi dimostrare Appunto Che L'attività All'interno Di quel conto È Relativa A Un certo tipo Di attività Che puoi fare Mentre L'attività Relativa A un altro conto Fa delle altre cose Se tu Se uno Arriva e vede Che tu hai pagato Dal conto A Lo stipendio Alla Mita research Allora Dice No Questo non lo puoi fare Fondamentalmente Cioè È importante capire Esiste una regolamentazione Ok La regolamentazione Deve essere Un trade off Tra Dare la possibilità A un imprenditore Di Fornire un servizio Magari migliore Un servizio Nuovo E Fornire la sicurezza Ai clienti Che Che non stai facendo Delle cose Strane La regolamentazione Ha un costo Ma Fornisce un servizio Al sistema Poi Qual è Il Il livello Di ottimo È È perché Mi arriva la domanda Quantitativa Ogni quanto Passa il controllore Su quell'autobus A controllare Il biglietto Cioè Ogni quanto Fanno audit I broker Magari scopri Che non hanno avuto Audit per 5 anni Allora Vi faccio problemi Si dice Che ogni mese Deve presentare Dei report Che possono essere Audited Allora sono più tranquillo No Ogni anno Sicuramente Una volta all'anno Sicuramente Deve fare un controllo Dettagliato Una volta all'anno Ma poi Sono Dei controlli Diciamo Più soft Nel senso che La società Deve fornire Al regolatore Dei report Delle cose E ci sono I controlli Un po' più strong Nel senso che Il regolatore Viene da te E dice Allora fammi vedere Quindi una volta Ogni tag Tu regolarmente Chiami PwC Ti fa l'audit Al tuo business PwC Di lavoro Fa l'audit Della società Non è l'audit Regolamentare Però può anche capitare Che Il regolatore Chiami PwC E dica Ok Togli il cappello Dell'auditing E metti il cappello Dell'audit Regolatore Vai a vedere Cosa Cosa sta succedendo Ma con Quello Con quell'obiettivo Perché Perché i broker Non mostrano Con orgoglio Le date Di ogni Odit Dettagliato Guarda Noi vediamo Oditati ogni Tre mesi Ecco l'ultimo Report Ecco l'ultimo Report Sarebbe figo Se tipo Che cavolo Ne so No Penso che Cioè Se parlo Sul sito Di Giro Dovrei trovare C'è Nel senso Alcune Poi Dipende Da come lo Da come lo Definisci Perché Nel senso Il Il fatto Che Adesso Che io Nel mio lavoro Devo presentare Questi report Al regolatore Non è che Quel report Non è pubblico Perché Ci sono Delle informazioni Proprietarie Però Zero knowledge proof Per parlare In termini Blockchain Cenosi Del tipo Oditato In data x Risultato Positivo Senza che C'è il dettaglio Non so Penso che Quel tipo Di informazione Forse lo trovi Sul sito Del regolatore Che dice Ok Interessante Sono le società Che Io approvo Servirebbe Un exchange Bankrupt Flow chart Decision Ok Ok Quindi Qui parliamo Della liquidità Dei conti Tra i titoli Nel senso La stessa cosa Cioè io Sul mio broker Compro dei titoli E mi fa Anche da custode Il broker Dei titoli Sì Allora Per 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 Un costo Un costo Più basso Alcuni broker La maggior parte Diciamo Soprattutto di quelli Retail Dicono Guarda Allora Io Anziché Fare Solo Il broker L'attività Del broker È semplicemente Di mettersi Tra Te E L'exchange C'è bisogno Di qualcuno In mezzo E quindi È quello Quello Che fa Il broker Lui Ti dice Guarda Oltre a fare Questa cosa Qua Allora Io Faccio La Custody Dei tuoi Titoli Anche Perché Così Costa Meno Ed È più Facile Per me Andare A venderli Anziché Andare A prenderli Da un'altra Parte Lo Faccio Tutto In casa Io Il problema Di Questo È Che Appunto Poi Tutti I titoli Dei Clienti Di quel broker Finiscono Tutti Dentro Allo Stesso Pentolone Ok Questo Unico Il concetto Di Omnibus Questo È Il brokeraggio Omnibus Perché Tutti Quanti Discount Tutti I broker Che Ne Conosciamo Funzionano Così Prima Di Entrare In Taglio Questo Qua I broker Che Invece Danno Segregazione Dell'account Sono Quelli Più Costosi Immagino Quelli Che Non Sono Quelli Che Vediamo Le Pubblicità In Giro Private Banking Non Lo So Di Solito Un Servizio Che Ne So Gli Edge Fund Quelli Piccoli Che Usano IB Come Broker Molto Probabilmente Hanno Dei Custodi Dei Servizi Di Custodi Quindi Sono Delle Società Che Hanno Un Foglio Excel Praticamente Dove Dice Ok Ho Questi Titoli Qua Che Appartengono A Questa Società Qua E Poi Quando Tu Li Vuoi Vendere Dai Un Mandato Alla Società Di Custodi Per Dire Guarda Se Questo Broker Viene Da Te Ti Chiede Questi Titoli Allora Glieli Puoi Dare Ovviamente Glieli Puoi Dare Solo A Fronte Di Un Pagamento Chiaro Chiaro Viceversa Chiaro E Quindi Però La Proprietà Dei Tuoi Titoli E A Nome Tuo Cioè C'è Questo Bucket Così Scritto Giorgio Questa Cosa Si Paga In Termini Di Casto Di Ricorrenti Tu paghi Qualche Pip L'anno E Via Il Modello Standard No Il Problema Che Allora Il Servizio Parte Da Un Costo Fisso E Quel Costo Fisso Sono Almeno 5 10 K All'anno Ah Ok Sì Ok Perfetto Quindi Non è Per Clienti Retail Se Non Belli Molto Facoltosi Però In Quel Caso Che Che Vantaggio Dà Un Servizio Del Genere Che Se Fallisce Il Broker Sono Due Cose Completamente Tu Hai La Custodia Vagli Ad L'altro Broker Il Giorno Dopo Hai Già Custodia Vediamo Che Succede Se Invece Fallisce Un Broker Tradizionale Standard Che Ha Custodia Che Fa Anche Custody La Fa In Maniera Omnibus Quello Che Io Ho Capito È Che Il Broker Ha Tutte Le Share Di Coca Cola Dei Suoi Clienti Quindi Internamente Al default Del Broker C'è Questa Informazione Nella Non so bene Chi gli fa Custody Al Broker Che Quel Broker Ha 100.000 Shares Il Broker Internamente Avrà Il Foglio Excel Con scritto Giorgio Ne ha 10 Nicola Ne ha 20 Se Fallisce Il Broker Questo Foglio Excel Chi Lo Va A Trovare È Quello Il 100.000 Shares Di Coca Cola Ce l'ha Ancora E Noi Stiamo Aspettando Dovrebbe Averle Perché Qui Si Aprono I Due Casi Ok Prendiamo Il Caso Il Caso In Que Il Broker Non Era Molto Buono Di Madoff No Se Non Era Quello Diciamo Che Il Broker Ha Fatto Il Su Lavoro Di Un Fallimento Però Tranquillo Non Malevolo Che Dove Non C'è Frode Quindi A quel Punto Lì Il Broker Ha Fatto Quello Che Doveva Fare Nella Segregazione Quindi La Società Del Broker È Fallita Però Tutti Gli Asset Che Non Erano Di Proprietà Del Broker Sono Ancora Lì Il Problema Appunto Che Quel Foglio Excel Lo Manuteneva Il Broker E Non È Una Cosa Del Tipo Scontato Che A Di Mercato Il Broker Deve Mandarlo Sul Cloud A Regolatore E A Quanto Pare No Come Questa Cosa Qui È Ghiacciante Magari Il Broker Fallisce E Mi Resettano L'account A Un Mese Fa Perché L'ultimo Backup Che C'era Al Di Fuori Del Broker È Di Un Mese Fa Può Succedere Sta Cosa Cioè Mettiamo Che Il Broker Fallisce E Dentro Ha E Quindi Il Broker Aveva 100.000 Share Di Coca Cola Però Io Ne Avevo 50 200 Così Che Succede E Non Me L'aspettavo Neanch'io Questa Rola Perché Pensavo Che Ci Fosse Un Però C'è La Possibilità Che Appunto Il Broker È L'unico Che È Mandato Ad A Tenere Questa Contabilità E Addirittura Banker Wills Ha Fatto Un Articolo Molto Interessante Su Questa Roba Qua E Lui Dice Ah Dovete Tra virgolette Tenere Una Prova Voi Di Quello Che Di Quello Che È Successo Di Quello Che Sono Le Vostre Proprietà Però Come Fai A Farlo Nel Senso Io Ce l'ho Però Metti Che L'ho Venduta Io Tengo Alla Prova Ma L'altro Ieri Metti Che Ho Appena Venduto Tutto Ti guarda Che io In realtà Avevo È Complicato È Complicato Appunto Poi Nel senso Uno Può Diventare Malevolo Anche Nel Da quel Senso Lì Ovviamente Tu non sai Quando il broker Fa lì là Per cui È Difficile Che Puoi Fare Del Gaming Da Quel Punto Di Vista Però Comunque Anche L'idea Di Dire Che Tipo Di Documentazione Devo Mantenere Dal mio Lato Per Poi Andare Dal Curatore Fallimentare E dire Guarda Questo è il documento Ti fidi Che il documento Che ti sto dando Io È Il documento Esatto Per cui Non lo so Come funziona Sto riprendendo Fiducia Nella Blockchain Perché Queste cose Sarebbero Molto Interessanti Su una Blockchain Quindi Mutabili Sto riprendendo Questa Fa salire Un po' Fiducia Nella Blockchain Mi spiace Ma Ok Ok La gente Sta Che Sudare In chat È mai fallito Un broker In uno Stato Regolamentato Seriamente Sì Tu ti ricordi Hai qualche Partito Levan Brothers Ma era un broker Qualche MF Qualcosa Che era Quello di John Corzine Negli Stati Uniti MF John Corzine Google John Corzine MF Corzine Non so Come si scrive John Corzine M.S. Eccolo qua American Financial Jonathan Stevens Corzine American Financial Executive Blablabla Vure Politico Blablabla Goldman Sachs Blablabla E CEO Di MF Global Dal 2010 Fino al suo Collasso Il tizio Che l'ha buttata giù MF Global Public Company Aveva anche un ticker Vediamo un po' Come va Come va questa stock Vabbè già liquidation Questa qui ovviamente Come Come butta Questa è un'altra cosa Ok Il ticker è stato riusato Questa è stata per liquidation In genere Vabbè Non riusciamo a dire Che non c'è più Men Financial No E' per solo i uomini Cos'era La roba Ok Ok Perfetto Questo è un broker Che a un certo punto Ottobre 31 Ammesso che hanno trasferito 70 milioni From customer accounts Porca miseria Adesso La storia Non me la ricordo bene Ma ad un certo punto Lui aveva fatto Era forse prima Della crisi Del debito In Europa Lui aveva fatto Un certo tipo di scommesse Non erano andate bene Quindi per coprire Le perdite Che avevo avuto Avevo cominciato A fare SBF No Prendere i soldi Dei Le regolamentazioni E Però Non è che Ti guardano dentro Tutti i giorni Quindi Però alla fine Non Non mi ricordo Se qualcuno In un modo o nell'altro Per i clienti L'hanno L'hanno risolto Questo Cioè un broker serio Sembra un business Infallibile Come mettere indici Cioè devi fare Delle frodi Per fallire Ok In teoria Ok sto perdendo fiducia Nell'umanità Un attimo Devo un attimo Riprendere Quindi un broker Può fallire Nel fallimento Pure se l'account Titoli è segregato Quindi l'account Titoli E liquidità Sono segregati Dal business Anche se fallisce In maniera pulita C'è rischio Che è un pastrocchione Ricapire Cosa tu avevi Però C'è rischio Che è un Il discorso è Come fa un broker A fallire Se non è Una cosa Ok come fa a fallire Però io Ho bisogno di sapere Che se fallisce Le cose sono sicure No ma Io pretenderei Che ogni broker A ogni chiusura Di stock A ogni mezzanotte Deba mandare Il database Da qualche parte Al regolatore Non lo so Ci fosse un back end Come i soldi Nelle banche Vanno sempre di notte Nel tasso interbancario A bici Non esiste una roba del genere Allucinante Da informatica Allucinante Non lo so Cioè Nel senso Io devo fidare Sperare che non fallisce il broker Mi sto fidando Di quello che dice Ralf Raff Raff Però Sì Cioè Il discorso magari Il ragionamento Del regolatore È magari Il fatto di dire Guarda Qual è l'evento Che può portare Una società Che non sta facendo Una frode A fallire Dall'oggi al domani Dato quel tipo Robin Hood Ha fatto security landing Di brutto Le margin call Non hanno funzionato Il broker Che fa CFD Si piglia rischi Di controparte Il broker Può Avere problemi Sì Però il broker Allora Nella regolamentazione Il broker Ha una sua equity Chiaro E quell'equity Lì serve A coprire Lì per Quando Credit Suisse È stata acquisita Da UBS Aveva Mi sembra 3 billion Di asset Under management E 3 No 3 trillion Di asset Under management E 3 billion Di market cap Ha voglia Ad essere equity Cioè Se sei lo 0.1% No ma aspetta Però Cioè L'equity È quello che Sono due cose Completamente diverse L'equity È quello Che È il cuscinetto Che ti serve A coprire Le perdite Su quel Tipo di attività Che dicevi tu Ma ti Faccio Security Landing A parte Il fatto Che è tutto Comunque Collateralizzato Quando lo fai Per cui Devi Praticamente In un giorno Devi fare Una In alta Volatilità Anche Uscì Robby Sotto GameStop Robby Nude Beccò Delle perdite Mostruose Perché Forse qualcuno Era andato Tipo short In leva A 99 Ma poi Non era riuscito A prendere Ricordo Ti ricordi Che c'era stato Qualche broker No C'è Ricano Quello che Era successo È che Robby Nude Non aveva Lasciato Più I clienti Fare Anche Quello Anche Quello Ma poi Troverò L'articolo Perché Era interessante Ok Quindi Diciamo così In teoria Il broker È un business Tranquillo Che prende Anche lui È un'altra Sorta Di Airbnb No In teoria Non dovrebbe In teoria Tranquilli Il broker Non dovrebbero Fallire Perché hanno Un business No Nel senso Non è che Non dovrebbero Fallire Dall'oggi A domani Se non Fanno Una frode Ok Restiamo Nell'ambito No frode Anche se Il broker Fallisce In maniera Tranquilla Chiude Le attività Se lo fa In maniera Non Overnight C'è E dice Semplicemente Guarda Non ci siamo Più dentro Le operazioni Chiudono Fra n Giorni Uno Sposta Le cose Quello è facile E comodo Sì Diciamo Ritorna Un po' Il discorso Dell'usare Delle società Dei broker Che sono Grandi Che sono Tra virgolette Diventano Sistemici Perché A quel punto Lì ti aiuta Il fatto Che Se Un broker Grande Scoppia È molto più Probabile Che arrivi Lo Stato E dice Guarda Quello che è successo Con Credit Suisse E UBS Vai da UBS E dice Vabbè Comprati La baracca La mandi avanti Io ti garantisco I primi 10 billion Di perdite Però almeno Quelli che erano I correntisti Fanno il tempo A cambiare Essere Non gli ha manco Cambiato niente Allora Perché alla fine C'è sempre La carta Di Credit Suisse Chiaro Quindi Il rischio È più che altro Usare Quelli Piccoli Quelli che magari Sono regolamentati In nazioni Che ne so A Cipro Le risorse Del regolatore Di Cipro Sono comunque Più piccole Dell'Inghilterra E quindi anche lì Hai meno possibilità Magari Che loro Riescono A beccare Quindi anche il fatto Che è domiciliato Ok Ok Quindi diciamo Un broker Che sta Che è regolamentato In una nazione Un po' più Diciamo Seria Tra virgolette È più facile Che Che fa un monitoraggio Più attento Un broker Che è domiciliato A Tuvalu È facile Che non ha mai Ricevuto un controllo Questo era il claim Beh sì Anche perché Comunque Questi sono Cioè Il regolatore Ha dei dipendenti statali Le risorse Che sono quelle Che sono E quindi In un paese Più grande Ci sono un po' più Di risorse Anche per fare Queste cose qua Qui c'è Il chicchie Hai Un po' di cose Da chat Che sono interessanti Giulio Che dice Il broker Può anche prestare I titoli In quel caso Se la controparte È insolvente Si dovrebbe liquidare Il collaterale Non è detto Che sia fatto in tempo Ok Questo Bene Interessante Sì Però anche lì Di solito Sono over collateralizzati E Il collaterale Comunque Si tende a usare Titoli molto liquidi Perché altrimenti Non Non è collaterale Qui dice Il collaterale Sono Di solito Obbligazioni Investment grade Da lunga scadenza Però posso fare Bene Guarda Wall street bank No come si chiama Scusa Silicon valley bank Ok Ma non puoi chiamare qualcuno Di trade republic E fare queste domande Penso che è più interessante Fare con qualcuno Che non sia In c'è Che magari Anche In futuro Può darsi anche Chiamerò qualcuno Di broker Esistenti Però in realtà Preferisco intanto Parlare con qualcuno Che è disinteressato E non ha alcun conflitto D'interesse Altra cosa interessante Che poi basterebbe Obbligare i broker Regolamentati Ad inviare uno snapshot A mezzanotte Alla console Quello che farebbe Un ingegnere Quello che Non capisco perché Questo è così difficile Di implementare Per motivi di Privacy Perché Cioè Se ogni mezzanotte Cioè Ogni momento in cui Non c'è trading attivo A parte molti broker Sono attivi H24 Se poter Da tutte le borse Del mondo Ma broker Diciamo Continentali Vien da pensare Che i broker europei Tu sai Su Fineco A una certa ora Non tradi più E quindi Potrebbe essere Una soluzione Obbligare i broker A mandare Uno snapshot Beh Però magari È quello Il discorso Che non Non vuoi Rendere pubbliche Quelle che sono Beh pubbliche Sarebbe Una sorta di Appendice All'odd Cioè Beh ma L'odd Non penso Che la Consob Sta lì Riceve i tuoi Snapshot In un formato Li salva Nel tuo Non lo so Non è che Ne stai pubblicando Però comunque La Consob È una società Terza E soprattutto Una società Sotto alcuni Punti di vista Una società Governativa E tanti Non Non Vorrebbero Che Certe Certe Informazioni Ok Vabbè Non mi Non mi piace Non lo so Cioè Io come Cliente Sarei più felice Di sapere Che c'è Un ente Di controllo Che riceve Ogni Notte I miei Averi Oddio Non lo so Non lo so Bobo Ok Interessante La fiducia Nel broker Cala Quindi il broker Nel broker Quindi esiste un concetto In cui il broker Dice Stiamo chiudendo le operazioni Come se google chiude google broker Ragazzi a settembre chiude google broker Trasferite i vostri titoli Immagino che sarà quasi automatico O magari Sarà più Non lo so Non è mai successo No perché Se ci pensi C'è un business Che ha dei clienti E quindi Ha un valore Quella roba lì È più semplice Che se uno va in difficoltà Tenta 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 Di rilanciarlo Non ce la fa più E dice Vabbè Siccome ho comunque Un asset Ho comunque qualcosa Che ha un valore E la relazione Con questi clienti Avrei venduto Questa relazione Almeno Mi porto a casa qualcosa Ok Però capisci Che a un informatico Non sembra sufficiente Come rassicurazione Ok Siamo nel mondo Senza frodi No frodi Qui c'è Giulio Che dice Leggo sul sito di directa Certificazione di appartenenza Al sistema Monteditori Su richiesta Quindi facile Che su directa Come broker Tu se vuoi Magari pagando Puoi far sì Che Venga certificato La tua posizione Ok Però penso Il monte titoli È solo quello Per Alcune Obbligazioni Ah Boh Non lo so Non so bene Di Penso Di cosa Chiedono Se sei Rudval Nister Roy No Ok Se invece A livello Se il broker Fallisce in maniera Brutta e cattiva Eh Lì Lì Sono Cazzi Quindi quando Quando i broker Ci dicono Beh comunque I titoli Sono segregati Dal Dal conto Gli asset Vostri Sono protetti Non sono mischiati I nostri asset È un false claim Perché pure se è vero No nel senso È vero perché è quello che devi fare Cioè nel senso se La legge è quella E quindi te lo devi fare E quindi loro ti dicono Sto rispettando la legge Chiaro Il problema è quando Quanto affidabile Smettono di Di rispettare la legge Ma ovviamente Non vengono a dirtelo Chiaro Chiaro Quindi un broker Che volesse fare il cattivo Potrebbe Sparire coi soldi Degli utenti E poi Via Si fa la causa Si fa Si fa Si fa Si fa Si fa Ok Speravo di avere Quando fallì MPS Come fu gestita La parte broker Della società Ma penso che Si è sempre stata Riacquisita Riacquisita Ancora c'è MPS Si Cioè Poi È ovvio Che Le banche Hanno diverse Diverse attività C'è un gruppo Bancario Che poi Ha La parte che fa La banca retail La banca Di investimenti Addirittura adesso Non so Se è solo In Inghilterra O da altre parti Però comunque In Inghilterra Dopo un po' Con tutti i casini Che avevano avuto Nel 2008 2009 Hanno detto Ok Tu Barclays Puoi fare La banca di investimento Puoi fare La banca retail Però Queste due cose Me le devi tenere Belle separate Così almeno Siccome Tendenzialmente Il casino Salta fuori Dalla banca di investimenti Io se non altro L'altro pezzo Ce l'ho già separato E quindi lo posso dare A qualcun altro Molto facilmente E poi Mi devo gestire Il fallimento Solo della Della parte Degli investimenti Che ha comunque Clienti istituzionali E tutto Per cui Già questa Si tenta Di tenere Le due cose Separate Anche all'interno Dello stesso Gruppo Bancario Ok Ok Quello che io capisco Per tirare un po' le righe Su questa discussione È che effettivamente Alla fine Tutti i conti Accessibili Al broker Però Se fa cose strane Sul conto Clienti E viene Visto E controllarlo All'auditor Si becca Qualche scopola Cioè diventa una cosa Brutta Per cui Se Se Broker Volete far frodi Dovete scappare Prendete Malloppo e scappare Questa è la cosa Più Più veloce Però Per quello che so A parte questo caso Che tu hai mostrato prima Non c'è grande storia Di broker Che hanno fatto Cosa del genere Tendenzialmente Perché appunto C'è una Anche I broker Funzionano Su economie di scala Per cui Cioè Se tu parti E dici O diventi grande E poi una volta Che sei diventato grande Comunque C'è talmente Tanta gente Che ci guarda dentro Come fai Diventi Sistemico E quindi Anche se hai avuto problemi Anche se stavi per fallire Trovano Ti vendono Oppure sei piccolo E lì Dove sta il rischio Di usare uno Piccolo Che magari Poi Non scala E a quel punto Lì Al regolatore Magari in quel momento Lì pure poco Gli ne cale E E Fallisce Ma poi Non Nell'articolo Di Banker Wills Loro citano Tre o quattro Broker Inglesi Che sono falliti Vorrei mostrarlo Vediamo un po' Se tra questi Tra questi Che ho salvato Non è quello Che tu non mi hai inviato No Sto cercando al volo Tra quelli che ho salvato Di Banker Wills Ma Ti ricordi Come si chiama Il cosa Non è quello Che mi hai inviato Tu Tu non mi hai Non mi hai inviato Questo Ma questo Non c'entra niente Se mi hai inviato Qualche altra cosa Non credo Se Ti ricordi il titolo Dell'articolo Lo vorremmo Cercare al volo Qui su Banker Wills Provo ad andare su Brokers A vedere Cosa dice Eh Questo Questo qua Safe Oh bello Come sembra Bello Tipo bello Banker Wills Veramente Allora Mettiamo il link Qua in chat Ok Broker categories Safe Versus Cheap Qui mostra Un grafico Stiamo messi male Come quadrato Banks Versus Pure broker Pure player E qui Price Sophistication Product Depth Quindi mostra Penso Verso il basso Non capisco bene Verso il basso Sono Sono Più Adesso ti faccio il giro Fammi il giro Allora La prima distinzione Tra sinistra e destra A sinistra ci sono Le banche Fondamentalmente A sinistra E In basso A sinistra Ci sono le banche Che fanno Attività di brokeraggio Ma lo fanno Ma lo fanno Internamente Se io voglio comprare Un'azione Da UBS UBS Me lo fa Ha un'attività di brokeraggio Ma non è Il suo core business Si fa pagare tanto Probabilmente Accesso Magari Anche a pochi mercati Non è l'ideale A sinistra e in alto Ci sono Sempre delle banche Sono regolamentate come banche Sono società bancarie Però Il core business È comunque più quello Del brokeraggio Rispetto all'attività Ok Cioè La Fineco Non so se ti danno un mutuo Per la banca Per la casa Ad esempio Non lo so Ovviamente si Però Fineco Più stand up Più il broker È la loro Cosa principale Sì Ok A destra Tutti i broker però Mentre a destra In basso Che i toro Cosa hai di vero A destra sono Sono Più broker Senza licenza bancaria Dall'alto al basso Diciamo La serietà Per cui In alto Mette Quelli più seri Quelli più grandi A metà Quelli che magari Stanno crescendo adesso Comunque È in basso La merda Esatto Dovevo Dovevo De giro e banca A licenza bancaria È pubblicato oggi St'articolo Ok Ok Magari Poi ci hanno fatto Non lo so Parla anche sui scuoti Penso che stia Diventando una banca Ok Ok Interessante Magari non è rilevante Per questo Schiavo È una banca Banca Broker Dovrebbe stare Lato sinistro Non so a che altezza Magari su Come fineco Ok Vediamo la parte Broker L'abbiamo più o meno coperta Sono un po' Stunnato Della Cioè Alla fine È una questione di fiducia Un po' come il dollaro Un po' come le monete fiat Cioè tu dici Beh Senti Se sto con un broker Enorme Che vuoi che succeda Ti pare che Il CEO Prende Si bonifica i soldi Scappa il CEO Cioè Se sto con un broker Dieci persone Che ci lavorano Può anche succedere Il colpo di testa Sì però Penso a senso Ad un certo punto Fare un certo tipo Di diversificazione Anche da Chiaro Non è più Il concetto Del broker in sé Ma perché Il broker Fa anche il custodian E quindi Vuoi tenere i titoli Da due parti diverse Alla fine Metti che uno Sta facendo crescere Il portafoglio Ad un certo punto Una parte Anche metà Di quel portafoglio Lì Lo puoi considerare Una roba Che tanto Non toccherai mai E poi anche Poi anche Spostatela Su UBS Poi UBS Ti fa pagare 200 franchi All'anno Perché Tra una storia E l'altra Però Anno Nel senso Hai un altro Tipo di Tu cosa fai Tu diversi Tra più broker Oppure no Ma adesso Io perché Ho poco Sul broker Ok Quindi Non Ma poi Cioè La mia situazione Era un casino Del fatto Che avendo girato La legge nazione Apri di qua Apri di là Adesso Tanti peccati Tanti pension fund In varie nazioni Ultimamente Ho rimesso Insieme Un po' di cose Però Ad un certo punto Io direi Devi diversificare Hai delle Guideline Chiedo per un amico Cioè tu Un milione Se resti Sulla stessa No Cioè io Più che altro Lo vedrei più Nel senso Di vedere Ci sono Dei vantaggi Ad esempio Quando Quando ero in Inghilterra Con Barclays Ti offriva Anche le altre banche Adesso Mi usavo Barclays C'è in mente Quello Però Hanno Che ne so Il premium Account Che non Ti serve Tanto Però poi Ti da Due o tre Cazzate Di Servizi Premium Che Valgono La pena Che sono Custodian Cioè Al fine Interactive Brokers Per la liquidità Ti fa il Bank Swept Insured Program Per cui Se tu hai più di Più di X mila Te li sparpaglia Fino a dieci banche Diverse Però i titoli Li custodisce Tutti quanti Non potrebbe Avere Complicato Avere un servizio Di custodia Di titoli Sicuro E diviso In n Frazioni Non è che ti serve Diviso Ti serve Il conto Intestato a te Ti serve Il tuo conto E lo fa Interactive Brokers Lo fa Con la liquidità No 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 Se tu vai Da Interactive Brokers E gli chiedi Voglio Voglio Che tu fai La custody A nome mio Non lo fanno Ok Però Costa Però Quello È un po' Più Se dovesse Il broker Sparire Dice Qualcosa A nome Mio Che sta Devo Si dato Presso Un'altra Entità Ok Questo È interessante Quindi Volendo Uno Potrebbe Diversificare A certe cifre Non aprendo Un secondo Broker Ma chiedendo Al broker Di farti fare Una cassa Di separata Oppure Avendo due account Nello stesso broker Uno con un cassa Di separata Non lo so Sto fantasticando No Però la cassa Di separata Costa 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 tanto Per questo Ti conviene Cioè Prendere 500.000 Franchi E metterli Che butti Da UBS Può darsi Me lo metterò In to do list Adesso È ovvio Che stiamo Sempre La gente Che ha Tanti soldi Io Scusate Ho incontrato A gente Che ha Uno Due Zeri Più di meno Ok Dieci milioni Su ogni broker Un po' complicato A un certo punto Una volta Te li hai fatti Tutti quelli Nel mondo Come fai Come gestiresti I soldi Di uno che ha 100 milioni Investiti No Ma il discorso Che è anche Una Cioè La probabilità Che IB Fallisca È diversa La probabilità Che Goldman Fallisca O cioè Comunque Che Goldman Fallisca Senza che Nessun altro Lo propone Cioè Alla fine Se tu vai Apre il conto Della banca Di In questo momento Di Giorgia Meloni Più che altro Perché Il premier Non è che Se quella banca Lì fallisce Non vanno lì A salvarla No È chiaro È chiaro Però ricordo Che IB Ha il credit rating Migliore dell'Italia Sì Secondo Standard & Poor Mi sembra che Se non sbaglio È AAA E l'Italia Era Scusa A meno È il più basso Delle A A meno E Italia è BBB qualcosa Per cui Triple B meno Triple B meno Ok Uff Bene Ci abbiamo da Qui tu Il layer successivo Di sicurezza È fare Far custodia Una banca Tradizionale Che comunque Pure che è grossa Fanno meno Giri strani Con i soldi E poi I governi Sono più incentivati È l'incentivo Del governo A salvare E a salvarti Ok Buono Buono Altre cose che possono fallire Andiamo su Sugli emittenti di fondi No Io ho Vanguard Ops Può fallire Un etf Può fallire L'emittente Di etf Cioè Partiamo da Più stretto livello Cioè Un etf Un etf Cosa può succedere Il brutto A un etf Se non c'è frode Niente Perché Alla fine L'etf È un contenitore Ok Al massimo L'emittente Può dire Ok Non ci interessa Più sto prodotto Lo liquidiamo E quindi Vengono vendute le quote E ti viene restituito I soldi Il delisting Di un etf Senza liquidazione Beh A me mi è capitato Di avere un etf Delistato E poi C'avevo l'etf Ma nel senso È quello della Russia Anche un altro Un altro Cioè tutto è stato Delistato Da un exchange Non potevo più Tredarlo Non ricordo qual era Ho chiamato I B Ma ho detto No questo dovresti A mano Tredarlo su un exchange Particolare E sono riuscito A venderlo Però era stato Delistato E ma lì Si è delistato Ovviamente liquidato No Nel senso che L'etf esiste ancora La quota esiste ancora E Non L'exchange Sul quale Era scambiato Dice Io non voglio più Quel business lì Ok Quindi Tu in genere Scambiarlo Da un'altra parte Ok Va bene Qui diciamo che Il singolo etf Non è un problema Mai sempre O viene liquidato Oppure in qualche modo Riesci a A risolverla Però l'emittente Se fallisce Blackrock È fantasia Perché parliamo di cose grosse Però a parte Blackrock e Vanguard State State Sono una difficoltà Però che ne so 21 shares può fallire O pro shares può fallire Se io ho un etf O un emittente piccola Che rischi corro Allora Il caso normale Alla fine Come fa Quella società lì A fallire Ha un Ha un Business Diciamo Il business normale Quello dell'etf Che genera Di per sé Un flusso di cassa Perché tu paghi Le fee Chiaro Ogni tot Per cui Aspetta che c'è il montatore Che dice Ok avere due milioni Nello stesso broker Ma due persone Stessa inquadratura Riusciamo ad averle Vieni Vieni Siamo un po' decentrali Ok Grazie Grazie Matt Quindi Quella parte del business Dell'emittente Degli etf Se è un prodotto Che funziona Ci sarà sempre Per cui Se CEO Di questa società Voleva fare la bella vita E quindi Quello porta la società In banca rotta C'è comunque un business Che è Appetibile E quindi Naturalmente Probabilmente Arriva qualcuno Lo compra Per te Che avevi Quelle quote Di quel fondo Non cambia niente Ok Sì Sono spiegazioni Psicologiche Ma non Non Cioè Nel senso che Se domani Jeff Boggle In realtà Non era morto Ma stava Cercando di Sparire Con tutti quanti i soldi Adesso In realtà Lui è ancora vivo E è pronto al Maximega scam Se In che modo L'emittente può scammare O può sparire Con il malloppo In che modo Può fare frode Diciamo Brutta Un'emittente Di fondi E allora Da un certo punto di vista Tu hai Il broker O il custodian Che dice Tu avevi questa La proprietà Però Di questi Pezzettini di carta Dall'altro lato Vanguard Gestisce Il fondo Certo Se Vanguard Dice Io Ho 100 milioni Ma in realtà È John Bogle Che va Al mare In vacanza Anche loro Quando L'auditor Arriva E dice Guarda Allora Qua A me Risulta che Dovreste avere 100 azioni Microsoft E non ce le hai Dove sono? Non ci sono Ok Quindi è tutto Ok Tutto quanto Quindi Ci stiamo affidando All'effettivo Controllo Dei controllori Sempre e comunque Non c'è nessun Meccanismo Di protezione Intrinseca È sempre così Quindi effettivamente Se un etf Traccia un indice Lo fa Cioè Potrebbe effettivamente Non possedere Le share Sì Il discorso è che Fantastica Cioè qual è C'è talmente Tanta gente Che In questo processo Che È abbastanza Difficile Pensare A come I soldi Escano Non è È chiaro Ma era anche Difficile Immaginarsi Che Lehman Brothers Serebbe fallita O che Bernie Madoffre una Cattiva persona Fino al giorno In cui poi Succedono Ste cose Se no Quindi io Se voglio Cercare di essere Scettico E comunque Allerta Che segnali Ho Per Cioè se io scoprissi Che ne so Che Vanguard Ha acquisito Talmente tanta fiducia Che neanche Gli fanno gli audit Mi spaventerei Sì No ma Allora Sono due cose diverse Cioè L'Iman è fallita Perché avevano Una leva Mostruosa Per cui Se tu vai A leva 1 a 50 Ti basta Fare un trade Sbagliato E sei fallito Ed è fallita Così Fine Ok Il discorso Di Madoff È più complicato E appunto È lì Dove Magari È l'esempio Calzanonte Perché dice Si inventava Le trade Eh Lui diceva Faccio questi trade Ma nessuno È mai andato A dire Vabbè Hai fatto questi trade Qua Dove sono le azioni Nessuno È mai andato A guardare Effettivamente Ok Dove sono Ste azioni Questo Perché Era un fondo Privato E non aveva Nessuna Necessità Di essere Audited No Il rischio Il rischio Vero Il rischio Vero In queste cose È che Tu diventi Tra virgolette Abbastanza Grande Per cui Poi Tutti Dicono Vabbè Io non controllo Perché tanto C'è già lui Che lo controlla E tutti Si dicono Eh vabbè Ma tanto L'ha fatto Quell'altro E poi Ad un certo punto Ti trovi In una situazione Che in realtà Non l'ha fatto Nessuno Per questo vorrei Un modo Non lo so Da informatico Vorrei vedere Una sorta Di dashboard Con Quando è l'ultima volta Che è stato Fatto l'audit A tutte le aziende Green Un po' come Non lo so Continuous integration Nel codice No Tu hai Ogni TOT Deve diventare Green Tipo Ok Audit in corso Perfetto Risolto Se no Andiamo a scoprire Che Cazzo Non so Blackrock Non viene Auditata Da 15 anni No Adesso Non è così Cioè Nel senso L'audit Lo fai Almeno due volte All'anno Ok Cioè Questo è un dato Interessante Sicuramente Dal lato Della società Ti ripeto Poi dal lato Del regolatore Non so Quante Quante volte Succede Ma Secondo me Il discorso di Madoff È interessante Per quello Per come Si è evoluta La questione Del tipo Eh ma Tanto è lui Che controlla Qualcun altro Fa giustamente Notare Federico Bidone Qua dice Con Madoff C'erano tipo Tre persone coinvolte L'azienda C'era lui Il figlio E poi è stato Pure un bello Pentito Familiari Magari in Vanguard Soltamente tanti Dipendenti Che alla fine Qualcuno farà Le operazioni Ad esempio Quello È un Complicato Soprattutto Negli Stati Uniti Hai questo processo Del Whistblower Che viene Viene remunerato In base Allo Alla Grandezza Dello scandalo Che Tu Fischi No Per cui Hai un incentivo Ad esempio Se tu lavori Per Vanguard E ti accorgi Che c'è qualcosa Che non funziona Che ho i soldi Lì Hai un incentivo Monetario A dirlo Non solo morale Ma anche monetario Per cui È giusto Come appunto Nel senso Ad un certo punto Magari diventi Più grande Magari Perché poi È anche possibile Che qualcuno Riesca A sfangarla Pure In una società Grande Non è che Voglio dire Che non può Succedere Perché succede Però Sì Fondamentalmente Più gente C'è a guardare Lì Più è difficile Rubare C'è chi dice Eh ma in sei mesi Tipo due volte l'anno Si ha voglia A fare di imbrogli Però non è che è proprio facile Non è che dici Vanguard È stato fatto l'odit Oggi E sa che fra sei mesi Ne avrà un altro Nel frattempo Vendono le scelte La sferiscono Su conti offshore Sarebbe un po' un casino Cioè sarebbe visibile Sta cosa Magari Vanguard Ha 50 revisori Di bilancio Tutti quanti Vedrebbero Ah questo bonifico Le Cayman L'ha fatto il CEO Magari è un po' complicato In aziende grandi Mi dà più sicurezza Diciamo Il controllo interno Il fatto che È difficile mettere d'accordo Tutti i dipendenti Quelli che hanno Un potere Un ruolo di potere Oltre che Gli osservatori esterni Però alla fine È sempre la La size Che dà una sorta Di garanzia È il trade off Che dicevo all'inizio Nel senso Vuoi avere sicurezza Ma Non puoi avere Una sicurezza Puntuale A livello Sistemico Il discorso Dell'audit L'audit Ha un conflitto Di interesse Al suo interno Perché finché Io società Pago La società Che fa Audit Su di me Ovviamente La società Che fa Audit Non vuole Rompermi le palle Perché vuole Tenere il cliente Se vede Un bonifico Alle caimane No no Ma nel senso Per dire Che comunque C'è questa Contradizione Anche questa Contradizione In termini Che va avanti Dalla notte Dei tempi No E però Il sistema Si è Si è messo D'accordo In questa maniera Per cui dice Vabbè Va bene così Nel senso Il costo Opportunità Funziona Ok Ok C'è una giusta Osservazione Del solito Federico Ridone Che è Quanto ha senso Preoccuparsi di cose Come il fallimento Di Vanguard Cioè nel caso peggiore L'economia globale Avrebbe problemi Ben più gravi Mi sembra come dire Mi tutelo In caso di Olocastua nucleare Esattamente Questo Nel senso Che ad un certo punto Cioè Tutto il sistema È basato Sulla fiducia Non puoi Fare Una Una Trustless Alla Blockchain Perché poi Ti porti dietro Tutta un'altra Serie di problemi E qui Dove Dove Dici Vabbè Bisogna trovare Un compromesso Questo Questo è il compromesso Che abbiamo deciso Poi magari Ci sono delle situazioni In cui appunto Vorreste Avere un po' più di controllo Magari meno Qui dice Però l'accentramento In società grandi Non comporta Alti rischi Ma Su questa roba qui Direi Forse no Nel senso che Se Cioè se Vanguard Diventa Più capitale Più asset under management Del PIL Americano Viene da dire Ok Va bene Cioè È più difficile Che fallisca Se fallisce Vanguard Abbiamo altri problemi Stiamo Con i fucili Nel nostro bunker Però è il concetto Di Taleb Che lui dice Ok Quando crei queste società Too big to fail Hai questo senso Di sicurezza Però Ti stai portando in casa Un rischio Catastrofico Per cui Abbassi la probabilità Che quel rischio Succeda Però se succede Magari L'outcome È Molto 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 Peggiore Dell'avere Cento banche E avere una banca Che fallisce ogni anno È un discorso Complesso Chiaro 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 Sempre Altra Osservazione Di Federico Dice Poi nel caso di Vanguard E BlackRock La liquidità di mercato È una garanzia Come rubi 13 trillion Come derubare Fornox Come le porti via 400 tonnellate d'oro Direi che anche Questa è una buona Osservazione È troppa roba Da muovere Fare un bonifico Ciao sono Vanguard Fare un bonifico Offshore A un'altra banca Che magari Quelli che appena vedono i soldi Scappano loro È complicato Ottimo Perché Cioè È diversa La questione Cioè Se tu pensi A Lehman O Cioè Hanno perso i soldi Non è che C'è qualcuno Che è scappato Pure Madoff Non è che Madoff Ce li aveva In tasca lui Li ha persi Quei soldi lì Li ha persi Nel senso Perché Continua a spendere Si semplicemente Aveva 50 billion Cazzo di spendi 50 billion No ma Nel senso La piramide Era cresciuta Talmente tanto Che la differenza Tra Tra gli asset Che lui diceva Di avere Quelli che aveva Veramente Le passività Ok Si ma le passività Chi se ne frega Io sto facendo Il ponzi Le passività Quando decido Di scappare Cambiare identità Con tutto il malloppo Le passività Vabbè Si però E' gente che scappa Con 5 milioni 10 milioni Difficilmente Perché io ho tutto Ok Qui c'è chi dice Però Diciamo Il problema Non è la frode Ma è il rischio Di default Beh sul default Non ho paura Se Vanguard Dice ragazzi Stiamo fallendo Senza frode A quel punto Però L'audit È ancora Bello pulito Perfetto Vanguard Società Non riesce A stare inattivo Deve fallire Tutti gli asset Segregati Degli utenti Vengono liquidati E riconsegnati Quello lì Non c'è alcun rischio Per l'utente Per l'investitore Se non c'è stata Nessuna frode Non c'è stata Nessuna operazione Sospetta Sui conti Degli investitori Non è però un problema Al massimo La rogna È che ci metti Un po' di tempo Perché immagino Sarà una procedura lente Magari ci metti Mesi Un anno Devi pigliarti un avvocato In America Capodarsi Non lo so Se c'è la liquidazione Di un Forse se c'è la liquidazione Di un etf Il broker ti fa Da intermediario Aspetta E ti arriveranno lì Come sto facendo io L'etf russo Se quello che fallisce È il broker E tutto in maniera Graceful Senza Nessuna frode Mi aspetto Che può darsi Che ci metti Un po' di tempo Ma le cose Le recuperi Questo è il secondo aspetto Cioè se Cioè se Se il B Vuole vendere Le sue milioni Di share Di VT No nel senso Per me No Cioè se io Ho un milione Di euro Con i B I B Fallisce E i soldi Me li redanno tutti Ma me li redanno tutti Tra un anno E io non c'ho i soldi Per mangiare oggi Chiaro Questo è Dice sempre Paolo Goletti Nel senso Sempre avere Problemi di accesso Potresti avere problemi Ad accedere A una certa entità Per qualunque motivo E quindi è meglio Sempre avere Almeno una seconda porta Due carte di credito Due conti corrente Due Ok diciamo che sì Devo Devo fare un altro broker Ho deciso Wow ragazzi Vedo anche belle Interessante osservazioni E domande Sarebbe stato preferibile Nazionalizzare CS Invece che Inglobarla in UBS Che ora Il rischio è sistemico E potenzialmente devastante Interessante Non è una domanda Non è posta come domanda Ma te la pongo io Nazionalizzare Invece che Farla comprare Da qualcun altro La Svizzera Non è proprio Fan È un po' poco svizzero Come concetto Allora Il discorso che Adesso la situazione In Svizzera Cioè Era già brutta Prima Perché comunque Tendenzialmente Le banche Avevano Asset Il livello di asset Che è il più grande Del PIL Della Della nazione E mo' Ce ne hai una Cioè non c'è nemmeno più Praticamente concorrenza Raffaizen È un problema serio Adesso Però Come fai Non c'è Il discorso della nazionalizzazione È anche quello Una roba Complicata Non è che ti inventi Di mandare avanti Una banca Così La Svizzera È tutta UBS Più teleprivate bank Ma quella Per poi Sì però Cioè Su tanti Su tanti business UBS È diventata Monopolio Ok Perché serve Che esistano i broker Oggi Perché non possiamo Tradare direttamente Sugli exchange Bella domanda Provo a rispondere al volo io Per vedere poi Se ho studiato Al momento Se la domanda Sottointende Che oggi Inteso come dire Ok lo so Che 50 anni fa L'exchange E voleva soltanto dialogare Con pochi Con poche entità accreditate E quindi tu non potevi Accreditarti Comprarti un sit Dal mese Costava infinito L'unico stronzo Che l'ha fatto come individuo È appunto Peterfi Che poi ha fondato Interactive Brokers Per lui Se l'ha comprato nel 77 Il sit Come individuo Tutti In investment bank E c'era lui Oggi Verebbe a dire Perché Perché gli exchange Non si modernizzano E gestiscono Più di Di 100 customer Che alla fine Sarebbe più conveniente No? Penso che sia Il regolatore Uno Una delle risposte Può essere Che comunque Il regolatore Ha i suoi tempi A capire Ok la realtà è cambiata Possiamo cambiare La regolamentazione Chi c'ha voglia Di farlo No io vado via Le 4 oggi Io c'era il bambino Dai mi sembra un po' Un po' E però Tante volte sono così Dall'altro lato All'exchange Fa comodo Avere comunque Certo fa comodo Però stiamo Capisco che una volta C'era la gente Che alzava le mani A New York Comprovendo Comprovendo Non vuoi avere 100 milioni di persone A Wall Street Ma oggi Però comunque Ti serve qualcuno Che Tra virgolette Connetta Il cavo Non è che C'è la piattaforma Che vedi tu Sui B Non è la piattaforma Che No è chiaro C'è bisogno Di qualcuno Che ti faccia Quell'interfaccia Lì Anche se L'informatico Mi viene da pensare Che potrebbe Non esistere Se L'exchange Accettasse Http Request Da Entità Sì Poi dici Chi ha La mia banca Ok Cioè Hai bisogno Di Connettere Il tuo conto In banca All'exchange Fare in modo Che questa connessione Vada bene All'exchange Come la vuole lui Poi devi Connettere Poi pensa Tipo adesso Io posso Su Interactive Brokers Vendere Un milione Di azioni Di dollari In azioni E un secondo Dopo Ricomprare Un'altra cosa Se fosse Con la mia banca Ok Vendi Perfetto Aspetta una settimana Che arrivano i soldi E poi ci fai qualcosa Invece il broker Ti dà la possibilità Di riusarli subito Questi soldi Ok Però ribalto la domanda Io a Federico Dicendo Ma perché Dobbiamo avere Nel 2024 Ancora Le banche Non possiamo avere Il conto Sulla bc Direttamente Quindi questa Ok Perché non lo fa Il nise Cioè Tu stesso Fai il broker Io gli giro i soldi Su un loro conto E poi li uso Dangerous Dangerous Ma Vieni qua Federico Prendi l'aereo Vieni qua Che hai domande Molto interessanti Il nostro studente Di economia Del CDA Federico Perché non È un business Che non gli interessa Fondamentalmente Non so se Sarai contento Il discorso È appunto Ritorniamo a SBF SBF Aveva tentato Di fare Quella roba lì Cioè lui diceva Perché hai bisogno Di tutti questi attori Mettiamoli tutti insieme E poi hai visto Qual è Infatti voglio arrivare A fine percorso Appunto Il mondo cripto No Cripto bello Tutto quanto bello Anzi oggi abbiamo Quasi dato punti Il mondo cripto Nel criticare Sta struttura Di fiducia Quando le cripto Nascono come Trustless Non serve fiducia Perché è tutto quanto Non aggerabile Però Queste infrastrutture Che abbiamo Nel mondo tradizionale Con mille intermediari E con mille Enti di controllo Serve anche a questo No Nel mondo cripto Tu hai Entità che ti fanno Da custodia Broker Ed exchange Tutti nell'unica entità Vai da Coinbase Vai da Kraken Vai da Binance Vai da FTX E ti fanno tutto Custodia Se vuoi La custodia Puoi farla fuori Ovviamente Broker Ed exchange Tu hai un po' di Conoscenza In ambito Cos'è un exchange Crypto Ma secondo me Sono Sono nati così Tra virgolette Perché Era Era più facile Creare un'infrastruttura Dal niente Che fosse abbastanza Customer friendly Se tu parti da zero Customer friendly Però poi Non c'è un cavolo Di tutela In nessun pezzo Della E però Non è la prima volta Che appunto Nel discorso Peer to peer Landing Anche lì Tutti si sono inventati Ste robe Che sono Autoconclusive Diciamo Perché Alla fine Se tu dici Io Non Io sto facendo Una cosa Legittima E Mi viene Molto più Semplice Fare Il design Di tutta la struttura Internamente Che non andare A farlo Con Con altri Poi c'è Un altro Che lo vuole fare Magari Non è chiaro È più semplice Tranquillo Però Central point of failure Sì Il problema È quello Il problema È anche Cioè Il discorso Che Cioè SBF Non 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 Faceva finta Di non capire Non voleva capire Perché C'è Un certo tipo Di regolamentazione Perché Andavano seguite Certe regole Ok Interessante Questa paragone Tra Mondo Crypto E mondo Peer to Peer lending Posso anche Pensare Che ne so Ad altre forme Di crowd Lending O crowd Funding Oppure Non lo so Piattaforme Che ne so Che ti gestiscono L'oro E tu vai lì Ti compri 10 kg di oro Ti ottengono l'oro Ti lo rivendi Internamente Ti fanno da exchange In genere Sono sempre su mercati Molto meno regolamentati Beh sì Appunto Seeders Che fa VC Tra virgolette Loro hanno Il custody L'exchange Per il secondary market Primary market Fanno tutto Tra di loro Però adesso Ad esempio Ti offrono Dice Se tu compri Più di Non lo so 10 kg Di una società Poi anche decidere Di dire Di manodaglio E self custody E tutte queste robe qua Per cui Ad un certo punto Magari Ci arrivi Sono Diversi step Rip Il mondo cripto Dimostra che si può fare Il problema è Chi lo gestisce Ma se ha gestito Ad esempio Il ministero dell'economia Why not Chi scappa Con i soldi Lo stato Quindi proponi L'exchange Pubblica Beh in teoria Una volta Oppure no Non solo Exchange Custody E whatever Tutto quanto Centralizzato Statale A me che proprio piace Al mondo Liberale Sta cosa qui Beh È il discorso Della I Qualsiasi cosa I euro Che vorrebbero fare Cioè il problema È che ad un certo punto Quando la La blockchain È pubblica E tu sei costretto A usare Solo Robbe sulla blockchain Tutti sanno Dove sono tutti i soldi Chiaro Chiaro Penso che quando si parla Di euro digitale Non è che si pensa A una blockchain pubblica Forse è addirittura peggio Nel senso che Non è pubblica Ma La banca centrale Ha legger La banca centrale Ad un certo punto Ha In ogni momento Sa Chi Ha Quanti soldi Tecnicamente Non è già così Ok Non è la banca centrale Ma sono le singole banche Con Però Il fatto che Ogni singolo stato Può venire e chiedere Dimmi i soldi Di Nicola In teoria In teoria Già Ecco Tutto il discorso Della Svizzera Era nato proprio Perché la gente Portava i soldi In Svizzera E quel discorso Lì non esisteva Sono moderatamente Convinto Che Lo Steieramt Può sapere Quanti soldi O se le dico Una cosa falsa No Ho capito Però All'interno Tu sei cittadino svizzero In Svizzera Se Io li porto a Panama In questo momento Chiaro 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 Intendi direi La BC Per me è che L'Europa E non è più La singola nazione Quindi è sovranazionale Quello è il problema Sì Ma Cioè Dipende da come Restringi L'eurodigità O Amplifichi il campo No Però Nel senso Se tu dici Perché poi c'è il discorso Del contante No Nel senso Se tu hai il contante Nessuno quello Lo traccia La differenza fondamentale Se tu elimini il contante A quel punto C'è qualcuno Che sa In ogni momento Chi ha cosa Come si muove Vabbè Già è così C'è il contante Sì Guardi Lì Vincino qua a Svizzero Gli svizzeri Hanno la banconota Da mille franchi Per quello Perché Vanno giù di testa Se io Ho 300 franchi Il contante Tutto il resto È abbastanza Tracciabile No Per loro Cioè Culturalmente In Svizzera La roba che fai tu È impensabile Cioè Non puoi Essere così Trasparente Chiaro 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 No Io voglio tutto centralizzato Niente blockchain Voglio la banca Che sa Chi ha Quanti soldi Ha istantaneamente Sconfitto E' sempre il trade off Non mi fa il comunista Fede che non lo sai E' sempre il trade off Tra Libertà E sicurezza No E' il stesso trade off Che c'è in tantissimi altri ambiti Ok 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 Bon Bon Più o meno abbiamo Abbiamo Coperto quello che volevo Chiederti C'era l'ultima parte Sulle Sulle Che se fallisce una singola azienda All'interno di un Che posseggo all'interno di un indice Ma lì è abbastanza Penso intuitivo Cioè se qualche azienda Qualche stock Va a zero Fallisce Uff Fine Così è abbastanza intuitivo Processo fallimentare Normale Ok In quel caso L'azionista Zero zero Oppure potrebbe ricevere qualcosa Cosa accade? C'è un'azienda fallisce No? Io ho ancora delle azioni Il mio broker mi fa vedere Hai queste azioni Hai il prezzo Dove andrà verso Oppure sarà proprio Delistato Non ci sarà un prezzo Non c'è qualcosa Poi in genere Che succede? Il tempo Liquidazione finisce Ti dicono Ok Sono avanzati Trenta centesimi Ad azione O zero E via Il discorso è che Molto spesso Cioè Il 99% dei casi È zero Perché C'è il bilancio Di una società Se guardi Nelle passività Tu hai Tutti i debiti E poi c'è C'è l'equity Però l'equity È quello che arriva Per ultimo Rispetto a tutti gli altri Quindi se c'è Il fallimento Beh però A me sta succedendo Che il mio ETF russo Sta dando Ha dato un paio di Dividendi Più alti del valore Del valore dell'azione Perché stanno in fase Di liquidazione Però lì immagino Il problema Era che non erano Fallite le aziende E erano state nazionalizzate Per cui in qualche modo No Era pure diverso Perché Più Forse Più una roba Di regolamentazione Qualcuno ha detto Ok Da oggi in poi Queste robe qua Non si scambiano più Cioè è diventato illegale Beh sì Però I share L'listava a 0.04 Sto cazzo Sto ETF Che fa strano Perché poi Non lo andavano Dividendo di 0.4 10 volte maggiore Ma potevi scambiare Non credo Non credo Però a patrimonio Mi compariva Sto cifra qui Vabbè Prima vengono pagati I dipendenti Poi gli obbligazionisti E se rimane qualcosa Ti comprano le stonks Con quello che rimane Ok E ho una domanda Un po' scorrelata Poi possiamo anche Andarcene a dormire Che riguarda Stavo riflettendo Qualche giorno fa Sugli ETF No? Market cap weighted E E pensavo Al ruolo Delle azioni Che danno dividendo E quelle che non danno dividendo Il mio Il mio pensiero Il mio shower thought È stato Le azioni Che distribuiscono Dividendi Vengono penalizzate Negli indici Perché nel tempo La tua esposizione A loro Diminuisce Cioè Mettiamo che Io ho due business Identici Uno che distribuisce Dividendi E uno che non distribuisce Dividendi Però sono identici Quindi non lo so Facciamo un esempio Valgono 100 Valgono vale 100 Business B Da 10 Io dividendo Vale 90 E business A Continua a valere 100 Entrambi crescono Questo da dividendi A un certo punto Dopo 10 anni Il loro market cap Sarà differente Quindi se io entro In quella In quell'ETF Market cap weighted Mi troverò Mi troverò Molte più share Molto più Molto più peso All'azienda Che non ha dato Dividendi Rispetto a quella Che ha dato Dividendi E quindi Sono due business Identici Due pizzerie Identiche Che fanno lo stesso Lotto E hanno gli stessi Utili Tutti gli anni Non lo so Ho fatto questa riflessione La domanda Non c'è una domanda Le 11 Non c'è una domanda Però c'è del tipo Sono due business Identici Il discorso Il primo cresce Di market cap Perché non distribuisce Dividendi Ma cresce il valore Perché tutti gli utili Restano dentro Quella scatola lì Sì Ma li tiene sul conto corrente Però Comunque Il valore Della società Cresce Perché ha Gli asset Sì Sì Non lo so Mi viene in mente Thinking out of the box Una sorta di ETF Non market cap weighted Ma Non so come metterla Neanche revenue weighted Una sorta di peso In base All' All'income statement E non in base All' Balance sheet Ragionamento così Da Da Sfigato Attaccamelo No Nel senso che Il valore Cioè Se io vado a comprare La pizzeria Che non paga Fuori gli utili Mi prendo La pizzeria Il business E tutta la cassa Che si sono messi Chiaro E quindi Cioè È giusto Che Pago quella cassa lì Perché altrimenti Ci sarebbe No no È chiaro Che È giusto Che le share Valgano di più Di quell'altra Perché ha dato utili E è giusto Che il market cap Sia maggiore Però sono lo stesso business Fanno gli stessi utili Ogni anno E io se prendo L'etf Della strada Mi troverò Due terzi di azione Della pizzeria B E un terzo Della pizzeria A Che se gli va male Il business A questo Se fa la pizza peggiore Ha un impatto maggiore Sulla volatilità Del mio Etf Delle pizzerie Di quella strada Quindi non so Il mio Il mio Il mio Ragionamento è Se tu dici Il valore di un'azione Banalizzando È Il Flusso di cassa Attualizzato Oggi Quindi Quei due flussi di cassa Attualizzati Sono uguali Però Nell'altro caso Tu hai flussi di cassa Più tutti Ma è ovvio Che mi aspetto Che l'azione Di quello che non ha distribuito i denti Valga di più Però vorrei un etf Che tracciasse Che mettesse dei pesi Nel portafoglio In percentuale Ai flussi di cassa E non Al patrimonio È una cavolata È un'idea stupida Perché Se no Cioè Se Le azioni Che non danno Dividendi A mio avviso Hanno un boost Maggiore Negli etf Market cap Weighted Perché se oggi Crea un nuovo etf Sull'sp500 Devo comprarmi Un botto di tesla E questo qui E mai di meno Johnson e Johnson Perché 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 ha meno Market cap Perché Perché distribuisce Utili Però è giusto Così Perché vale di meno Ok C'è qualcosa che Non mi torna Perché altrimenti C'è Pensata dall'altro Ma sarebbe L'assurdo Se il prezzo Se il prezzo Di quella roba Lì scendesse Ma non pretendo Che il prezzo Scenda Però solo Che esista un etf Equal weight Ma con un Differente Pesaggio Delle componenti Ma perché Perché Io vorrei essere Esposto Alla Alla Cioè Vorrei che La Non so Come dire E Essere Esposto Alla Flus C'è un edge Fund Si C'è un edge Fund Attorno Ma la mia Idea qual è E che se Supponiamo Rente De due pizzerie Che valgono 100 Il day Uno Nascono E entrambi Valgono 100 Questa Per una Vita Distribuisce Tutti gli utili L'altra Non li distribuisce Mai In cassa Dopo 50 anni Una A market K Di 100 Altra A market K Di Un milione E io Mi prendo Un etf Sulle due pizzerie E c'ho Soltanto Pizzeria B Se Pizzeria B Quell'anno Va male Io Ho perso Tutti I soldi Ma Entrambi Vendono Le stesse Pizze Proprio Darsi Pizzeria B Perché Per sbaglio Un dipendente Il pizzaiolo Si è Ammalato Non fa pizze E sono Molto Esposto A pizzeria B Mentre I soldi Business Uguali Vorrei essere Esposto Uguale Non lo so Ma è una stupidaggine È un pensiero Stupido Che poi Non succede così Nessun business Che non dà Dividendi Ti tiene in cassa No Ma Anche se In quel caso Lì Se fallisce Business Comunque La cassa Ce l'hai Very good point Very 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 good point Ok La penso Che mi hai ucciso È vero Cioè O i soldi Li hai reinvestiti E quindi Avrà un business Più potente O se no Ce l'hai in cassa E lo fanculo Vale lo stesso È vero Ok Stop Detto una puttanata Ok Se avete qualche domanda Bene Se il fondo È orientato Verso la distribuzione Di dividendi Utilizzare i flussi Di cassa Come criterio Di ponderazione Può aiutare A valutare La sostenibilità Di pagamenti Di tendi Nel tempo Però Qui stiamo Sempre a livello Di Value Determination Credo E però Il punto È giusto Nel senso Che se I soldi Reinvestiti I soldi Non distribuiti Non vengono Neanche reinvestiti Ma sono cassa Quelli rimangono E quindi La mia connessione Se hai due conti Se hai due conti bancari Uno c'è L'altro 10.000 Perché Può entrare Le stesse proporzioni Ok Ok Perfetto Bene Chi ha vinto Saremo Chi ha vinto Saremo Stiamo ancora Giovedì Va bene Ragazzi Spero che vi sia Piaciuta Se c'è Qualcun'ultima domanda La accogliamo Volentieri E Se no Andiamo a Nicola A dormire Eppure io Ho capito la domanda Lo dici Che quello che paga I dividendi I soldi Che escono Dalla cassa E verranno Distribuiti Ovviamente Dalle altre aziende Quindi aumenta Gli altri Non il tuo No Non è proprio Esattamente Quello lì Nicola Routine di allenamento E chilogrammi Sulla panca Chilogrammi Di bambini E lo scuota Il mattino Per alzare Mia figlia Faremo live Sul pare Ma quando Una live Sulle diverse Idee Di investimento Tra te Nicola e Paolo Interessante Interessante Al volo Ferrero Simone Nicola Su cosa sei In disaccordo Con Rip Investe in Philosophy Tutto Una domanda Spiazzato No c'è sicuramente Qualcosa Probabilmente Ne avremmo già Parlato In passato Adesso Orario Sbagliato Sì Cioè Così No Però poi Penso Siano robe Legate Alla Io non Faccio Obiettivi Come uno Si sente A suo agio Negli asset Che ha Non lo so Cioè nel senso Io Più Continuo a studiare Più mi sento Meno a mio agio Quello che ho Nel senso Che Ho peccato Di troppa Iper Semplificazione Perso In passato Io Ora Studiando Anche un po' Covered Call Ok Ma ora Ho fatto Lo screenshot Che ho VT a 105 Sta 104,90 Scatono Tipo venerdì prossimo E sto Dai 104,99 No Sulle Covered Call Ok Mi è chiaro Il meccanismo Mi è chiaro Che non sto cercando Di battere Il mercato Ovviamente Sto Cambiando La curva Di ritorno Però La critica Principale Che Che mi arriva È che Stai rinunciando Agli upside Che potenzialmente Sono molto più alti Di quanto Stai guadagnando Come premio Sì Il discorso È che Ti Ti Tieni aperto Il downside Per Per avere Questo Income Che In realtà Cioè Potresti avere Vendendo le azioni Cioè Semplicemente Anziché avere 80-20 Ma Call cap 70-30 Però Il mercato È bello Beh Conta che io Però le vendo Un po' Out of the money Nel senso che Deve essere un evento Particiormente divertente Se si triggerano Cioè Più 10% Da qui a 6 mesi Per un etf No azioni singole Se succede Sono triste Relativamente Sì Però Tutto il passato Ad esempio Cioè Quelle Reazioni Fanno L'8% All'anno È È Dato Anche Da 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 Nel menti Lì 1-10 Più 70 Se Quei pezzi Li tagli Cioè Penso mentalmente È lì dove Dove Casca la cosa Perché uno dice Beh Alla fine a me Cosa interessa Di fare Da 10 A 20 No Il 10% Mi sta bene Portarlo a casa Però il problema È che Quel 20 Di serve Nel momento In cui L'indice Fa Meno 40 Chiaro Chiaro Non ho nessuna Non nessuna Non riesco a controbattere In nessun modo È Probabilmente Un bias Ho anche pensato A cose più estreme Ti puoi vendere sempre Call a the money Perché alla fine È lì È il massimo Estrinseco Che vai a prendere Come premio In teoria L'indice Buy right Fa così Se prendiamo Un etf Buy right Fa così Under performa L'SP500 Buy right Però con minor Volatilità Ho visto E lo sharp Ed è più o meno Lo stesso Però in genere Hanno fee più alti Quindi Vai a rimetterci Fatta a mano Io cerco di trovare Un equilibrio Che mi Mi fa contento A me piace Il cash flow Quindi è un po' Un bias Sono d'accordo Il problema Che è un soldato In svizzera Non è tassata La vendita È ridurre il cost Non è considerato Non è considerato Dividendo Quindi quello Se vogliamo È un income Un po' Diverso Il problema Lì è come Questi indici Lo sharp Sono calcolati Perché guardano La volatilità A sinistra E la volatilità A destra E la pesano Come se sia la stessa cosa Per cui se io levo Tutta la volatilità A destra Sì Ho Meno volatilità Ho Quindi Creo Uno sharp Più alto Però Se basta La parte Che Cioè Quella che In teoria Vorresti eliminare È quella sinistra Di volatilità Chiaro Però lì Per eliminarla Devi Comprare assicurazioni Voglio vendere assicurazioni Beh No Ok Ci ragionerò Sopra C'è molte persone In gamba Che seguo Tra te Tra Ben Felix Non parlano bene Delle covered call Vendo anche Cash secured Put Tra l'altro Ogni tanto Però ne abbiamo parlato Forse offline Che alla fine Tu dici Il mio razionale Era Voglio comprare VT Sta a 104 Vabbè Vendo una put A 100 Fra 10 giorni Se va sotto i 100 Me la compro 100 Se no Ho preso Il premio E via E il tuo argomento Era del tipo Sì ma Se A scadenza Te la trovi in mano Non è il VT Che hai visto oggi Ma è successo Bomba atomica La borsa perde il 50% E quindi Il ragionamento Tiene a senso Tu C'ero C'ero cascato Anch'io Nel senso Cascato Product Ogni volta Ogni volta Prendi sempre meno Sempre meno prezzo Ed è lì Anche dove sta La perdita del valore E il problema È che non È difficile accorgersene Perché non Finchè non Non avviene L'altro L'altro evento Cioè se il mercato Fa melt up A quel punto lì Dici Mi sono portato a casa Il 2% all'anno Per sacrificare Un più 20 Il rischio vero È quello Che ad un certo punto Chiaro Non ti prendi Il ritorno meglio Di mercato Perché magari Quella volta E fa più 20 Hai cappato A più 5 Ok Però se la mia filosofia Fosse Fosse Protegge Metal Wars Che il scenario Cioè avere un Safe withdrawal rate Più alto Per early retirement No Non può darsi Che scopriamo Ma sarebbe Fa qualche simulazione Che in realtà La 4% rule Funziona Vendendo Covered call Perché alla fine La 4% rule 4% Oppure il safe withdrawal rate Si può mettere più alto Se 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 vendi come un pazzo Covered call A demonei Perché qual è il rischio Più brutto Del retirement Perché Perché il safe withdrawal rate 4 Forse 3 E mezzo Come dice Ben Felix 2 e mezzo Perché dice che tu vai in pensione E quell'anno lì Fa meno 50% La borsa Se tu sistematicamente Vendi Covered call Anche nel caso peggiore Con il cui Ti becchi subito La mazzata in testa Appena smetti Appena vuoi vivere Di quei due soldi Può darsi E in quel caso lì Ti danno quel boost Tale Che il tuo portfolio Regge meglio Non lo so No Il problema È duplice Nel senso che Mentre il mercato Va giù Tu per Per avere come premio Quel 4% Devi vendere Sempre di più Perché ovviamente Il valore Del Del tuo portafoglio Scende Però tu L'income Che vuoi Tirare fuori È costante Chiaro Quello è come Fare il withdraw Dal tuo portafoglio Però il tuo portafoglio Se nel tuo portafoglio Vendi Vendi Covered call Vendi covered call Nel tuo Mettiamo nel tuo Portafoglio Soltanto Non so 100% Un etf World E ogni Ogni anno Vendi Il 4% Iniziale Poi è giustato Per l'inflazione Però Nel caso in cui Il primo anno Va molto Ma i primi anni Vanno molto male Tu ti stai distruggendo Il portafoglio Perché devi vendere Più quote E il mio claim Ancora È una Non è un claim È proprio una Una congettura Cialtronesca Al momento È che se Mentre l'etf Le zanzare C'è Se Mentre l'etf Mentre il tuo prodotto Va giù Hai comunque venduto Covered call Hai perso Meno soldi No Allora Tu Quarti Tu parti L'anno 1 E diciamo Che devi vendere Per ottenere Quel 4% Devi vendere No no Devi vendere Una covered call Con un sottostante Non voglio fare Income solo La covered call L'income Lo faccio anche Dal total return Nel mio portfolio Non voglio vendere Covered call E vivere Io voglio Vivere Estraendo Il 4% Dal mio portfolio Che è composto Da Il mio etf Più le covered call Che vendo Se poi quell'anno Se poi quell'anno L'etf da 100 Va a 50 Può darsi Quello che vende Covered call Solo 2 Mi hanno dato Quindi l'income Lo prendo Un po' Da quello Vendo però Un po' Di meno Di quello Che avrei dovuto Vendere Se non avessi Avuto Covered call E però poi Se continui a vendere Covered call E poi risale Di botto Quello è il secondo Scenario Quello si è brutto Che non ti Una strategia Un po' Più attiva Che dice Finché sei in drawdown Non vendi Covered call Non lo so Non lo sarebbe Da backtestare Ma temo Che non Trovo niente Cioè l'obiettivo È Una strategia Con vendita I derivati Che mi consente Di alzare Il safe withdrawal rate Che Non significa Avere ritorni Più alti Medi Ma minimizzare Il worst case Scenario E lì Il Quando diventerò Un retirement planner Ci penserò Beh E lì il problema E il discorso Per cui Ad esempio Attraverso La diversificazione Cosa ti fa Cioè ti Elimina Quella La V Beh Sì Boh Sì Ah in teoria La tua Filosofia È quella Che punta A questo Antis Discorso È quello Non c'è Tentare Di Questo Sì Se il futuro È come I backtest Ci dicevano Sì Decidi Che il caso Peggiore Per essere sicuro Al 95% O 99% Dei casi Devi prelevare Il 2,5% Dal tuo patrimonio Il primo anno E poi aggiustarlo Per l'inflazione E questo Lo fanno Mille persone In mille universi Paralleli In un universo Di questi qua Il pensionato Muore di fame Perché non ha soldi In tanti altri Diventa trilliardario Il pensionato Che è stupido Quindi io vorrei Rinunciare a Quell'upside potenziale Ma poter prelevare Invece del 2,5% Il 5% Con una strategia Che è più conservativa Che dà un ritorno Medio più basso Del mercato Però Non mi manda mai Max drawdown Così alto Però alla fine Forse è il stesso Meccanismo Su cui Forse la filosofia Tua di investimento È più adatta a questo Il problema è che Non puoi farlo Cioè Il singolo prodotto Il mercato azionario Con le opzioni Non ti darà mai Per definizione Quella Il discorso di dire Io voglio Un ritorno Più certo Ma anche Cioè sono disposto A dire Ne voglio Meno Nel caso Migliore Ma voglio avere Una sicurezza Più alta Nel caso Peggiore Perché Il discorso Che le azioni Ti offrono Quel rendimento Lì è proprio Legato al fatto No è chiaro Va fatto con Asset correlati Va fatto con Un portfoglio Più tranquillo Quindi probabilmente Forse la strategia Migliore è quella Del minimizzare Il max drawdown Un po' come fai tu Probabilmente Un po' come fai tu Ok Se non ha senso Il sequence Detain risk viene Mangiato dagli strappi A rialzo L'azionario Sì 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 Vabbè Stiamo in un laboratorio Di idee Io sparo idee A cazzo di cane E le distruggiamo Va bene Su questa qui però Mi permetto di voler fare Qualche backtest In futuro Ammetto 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 Come è VT Do the moon Io ho la colla A 105 Che quale è VT Do the moon Su dal secondo Vanguard VT Stock 150 Dai cazzo 105.12 C'ho la cover Con la 105 A dire A 104.90 Se no mi tocca Ricomprarmela Se è così Me la ricompro Bene ragazzi Bene ragazzi Spero che vi siate divertiti Spero che vi sia Piaciuta questa live Un po' più tecnica Abbiamo un po' Abbiamo perso Le poche certezze Che avevamo Almeno io Ho perso Le poche certezze Che avevo Ho distrutto Le poche idee Che avevo Geniali Adesso ho trovato La soluzione Distrutto E andremo a letto Più depresse Quindi ci vediamo Grandi live Questa settimana Ma con due broker Con due broker Mi è crollata L'autostima Grazie Nicola Grazie a te Ormai sei ospite fisso Ci rivedremo presto Quando avrò altre idee folli E altre domande stupide O a pattinaggio O a pattinaggio Ci stiamo incontrati Randomicamente A pattinare sul ghiaccio Ciao a tutti ragazzi Buonanotte Ci vediamo domani Per fare Con due broker diversi Domani farò Un tutorial Di Trader Republic E un tutorial Di Interactive Brokers Ciao 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 Grazie a tutti